Mi chiamo Anna Migotto, mi sono laureata nel 1983, sono una giornalista, la mia laurea è stata in storia delle istituzioni e ho lavorato sulla questione del potere e del consenso. Sono stati anni magici anche per me, quelli di Trento, magici perché studiavamo e avevamo la possibilità di fare molte altre cose, dalla compagnia teatrale universitaria, rapporti con il territorio, rapporti con la RAI, è stato importante per me poter cominciare a collaborare qui alla sede RAI di Trento con la radio per arrivare poi piano piano a fare quello che faccio adesso, cioè l'inviato, io lavoro per Mediaset, stare da questa parte della telecamera è una delle cose peggiori che possano succedermi perché sto sempre dall'altra parte. Il mio percorso lavorativo è stato relativamente facile, credo che fossero anni molto diversi, dunque io mi sono laureata, sono andata a Milano, sono nata a Udine, sono andata a Milano, ho frequentato la scuola del piccolo, avevo in mente di fare nella vita la regista teatrale ma nello stesso tempo cercavo lavoro e ho avuto una possibilità di lavorare con la sede RAI di Milano, è stato un po' il lavoro, direttamente il lavoro che mi ha portato verso questo mestiere. Ho fatto semplicemente un colloquio con quella che allora era la Fininvest ed era un momento in cui la Fininvest stava nascendo, di conseguenza i giornalisti venivano assunti anche sul merito, senza particolari spinte di nessun tipo, quindi ho cominciato a fare la giornalista in Mediaset, ho fatto il praticantato in Mediaset, sono diventata una giornalista, ho visto la nascita dei telegiornali, ho fatto l'inviato speciale per moltissimo tempo, ho lavorato a Matrix, adesso lavoro a terra su Rete4 e dunque ho fatto alla fine ciò che desideravo di più, cioè fare questo lavoro nel quale era molto importante riuscire a capire la società e credo che quello che ho imparato all'Università di Trento sia questo, cioè alla Facoltà di Sociologia, imparare a comprendere come leggere le cose che avrei poi affrontato nella mia vita e avrei incontrato nella mia vita, anche eventi molto tragici perché ho fatto e faccio l'inviato esteri e quindi seguo i conflitti, ho seguito la criminalità organizzata e questa chiave di lettura che mi ha fornito la Facoltà di Sociologia, i professori della Facoltà di Sociologia sono stati fondamentali per il mio lavoro.